ciao a tutti quest'oggi parleremo di un filato davvero unico un filato con una morbidezza una sensazione di avvolgimento comfort e protezione perfetti per realizzare copertine e capi di abbigliamento per i più piccoli ma anche più grandi è un filato morbido le fibre infatti sono di 18 19 micron molto sottili rispetto alle altre non irritano la pelle e sono molto morbide da piegarsi a contatto con la pelle il justin baby è oggetto di un particolare trattamento chiamato superwash che ne consente il lavaggio e lavatrice con i cicli delicati presenti ormai in tutte le lavatrici domestiche moderne ha una particolare torsione definita corallina che avvolge perfettamente tutte le fibre in modo tale da non pizzicare la vostra creazione rimarrà calda e comoda anche bagnata anche se la lana infatti si bagna a causa del sudore continua a scaldare questo perché le proteine contenute nelle fibre si riscaldano non appena si bagnano con una produzione che tessiland fa in maniera diretta totalmente realizzata in italia con le migliori lane del mondo e senza intermediazione abbiamo raggiunto uno standard qualitativo davvero fuori dall'usuale ma vediamo adesso quelli che sono i nuovi colori del justin baby turchese cartazucchero militare cipria verde pistacchio viola veri peri ottaneo coccio lavanda grigio senape grigio scuro io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nuovi prodotti tessiland le curiosità le edizioni straordinarie e le idee creative e noi ci vediamo al prossimo articolo ciao 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 Grazie a tutti.